Siamo a Forio, turista di Brescia, la signora Giulia. Ecco, cosa ci dice? Le piace Ischia? Ischia piace molto, però le voglio dire che la spiaggia della cava dell'isola il sindaco la dovrebbe aggiustare perché sta sfranando e vent'anni che vengo giù rimaneremo senza spiaggia. Mi sembra dignitoso che il sindaco la aggiusti e la pulisca. In effetti lei dice che da vent'anni viene a Ischia e trova sempre la situazione di cava dell'isola peggiorando. L'isola peggiorata perché poi l'anno scorso c'è stato delle frane e lì c'è tutto che scende. Se succede un'altra frana di lì non usciamo più dalla spiaggia perché è un imbuto. Io dico a Brescia dove c'è quelle frane lì fanno delle gabbie con dei sassi e le mettono una sopra l'altra e piantonano la montagna. Lì ci sarebbe solo da fare dei lavori e sistemare la spiaggia perché è una bella spiaggia. Perché il turista straniero non torna più se vede così, secondo me. Poi tra l'altro il turista non sa se il problema è del proprietario che si trova sopra oppure del comune. Allora sopra c'è la baia delle sirene che lì hanno costruito a precipizio. Però penso che sia una cosa del comune da sistemare lì. Io spero che quando torno l'anno prossimo di trovare la spiaggia un po' più in ordine e sistemata perché mi fa paura.